Consolata cerimonia in comune per il premio Civitas Arezzi, giunto quest'anno all'undicesima edizione attribuito ogni anno a personalità, istituzioni, enti o associazioni che con la loro opera meritoria e con la loro attività contribuiscono significativamente a divulgare la conoscenza del nostro millenario patrimonio di civiltà e cultura, oltre che a promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni della città di Arezzo. Quest'anno il riconoscimento è andato a Franco Paturzo, farmacista, grande appassionato di storia retina, scomparso pochi mesi fa in un tragico incidente. L'altro premio è andato all'attore Alessio Boni, attore di teatro, cinema e televisione, amante dell'arte e del territorio retino, dove ha scelto di vivere. Realmente con profonda commozione ringrazio l'amministrazione comunale, il signor sindaco, avvocato Fanfani, il professor Macri come assessore della cultura per aver ricordato Franco che ha dedicato la sua seppur breve vita allo studio della storia, delle tradizioni della città di Arezzo e del suo territorio. E' per me un onore per mio fratello ricevere questo premio e spero realmente che il suo studio, attraverso le trasmissioni, attraverso la divulgazione, sia riuscito ad avvicinare la popolazione di Arezzo, della provincia, della città di Arezzo, alle proprie tradizioni, alla propria storia. Diciamo così, il suggello di un'amicizia. Beh, bella questa cosa, mi piace, sì, sono particolarmente lusingato di questo premio perché non è un premio, non so, con una migliore interpretazione o che fai parte del miglior film, ma questo Civitas è proprio per qualcuno che si prodiga nella cultura, sperimenta, cerca. Io sono diventato direttore del Festival del Cinema Sociale l'anno scorso, mi interessa moltissimo l'arte contemporanea, mi è piaciuto moltissimo il percorso di Castica dell'anno scorso, spero che prosegua. Abbiamo tanta cultura, soprattutto da Arezzo, spero che riapra il Francesco Petrarca, il teatro, parlo del teatro. Insomma, mi prodigherei moltissimo per questo territorio perché davvero da Guido Monaco, a Piero della Francesca, a Vasari, appunto, adato di Natalia a Francesco Petrarca e tant'altra personalità che gira il mondo, veramente a Arezzo potrebbe fare tantissime differenze perché è una città piena d'arte e di cultura.